Per noi lo sport è una delle attività formative utilizzate come strumento di educazione, coesione sociale e prevenzione verso forme di discriminazione ed emarginazione, uno strumento terapeutico determinante per il miglioramento psicofisico dei partecipanti. Con il progetto Aprizzo alla Vita vogliamo sviluppare percorsi ludico-motori inclusivi, integrati per soggetti fragili e svantaggiati. Aiutaci, sostienici nella nostra attività in modo tale da rendere un mondo migliore. Grazie per la visione!